Il contesto nazionale è stato organizzato dall'associazione Emslook Culture che opera da 10 anni in questo ambiente e è un contesto che è stato realizzato per valorizzare intanto le strutture urbane e le aree periferiche ed è un concorso che è dedicato alle aree urbane mescolate con la natura quindi la natura in mezzo alle aree urbane Sono stati chiamati all'appello numerosi artisti provenienti da tutta Italia e artisti comunque di qualità medio alta questi artisti partecipano al concorso e ognuno di loro potrà vincere un premio di 250 euro messo a disposizione della nostra associazione non, non, non mi fattiamo No viagra in my cup, spoil me in D Cause I desire to find a stuff Bees and oil and grease, trying to find a designer stuff They quiet like a mime, so my mind's so focused On my grindstone in different time zones Notice, flicker my elixir and wear the chicks arm I'm losing God to the hips and trying to get up Get up, get up, you lazy love Get into your work and clothes Up to your knees and oil and grease With a grindstone through your nose Get up, get up, you lazy love Get into your work and clothes Up to your knees and oil and grease With a grindstone through your nose Yeah, yeah, yeah